Il grande basket maschile torna a Lucca sul parquet del Palatagliate con l'ottava edizione del trofeo Carlo Lovari organizzato dagli amici della pallacanestro Lucca del Bono Onlus. In campo quattro delle migliori formazioni della pallacanestro italiana che venerdì e sabato 15 e 16 settembre si sfideranno in uno degli ultimi impegni della preparazione in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Gli incassi dell'Ovari 2022 e il contributo della fondazione Cassa di risparmio di Lucca hanno permesso di finanziare i lavori di rinnovamento delle superfici di gioco del campino di San Filippo. È stato individuato dagli amici della pallacanestro come oggetto della riqualificazione e lì si è tenuta la presentazione dell'ottava edizione del torneo. È molto importante l'edizione di quest'anno perché vede nel concreto la realizzazione di un progetto grazie appunto anche a Proventi dell'Ovari ma grazie a tutte le persone che ci supportano e l'inaugurazione di questo nuovo campino che è stato riammodernato, ristrutturato in collaborazione con la fondazione Cassa di risparmio, con la supervisione del comune e con la nostra volontà di ricreare e di ridare a questa zona che è una zona molto interessante, praticata, vissuta da famiglie in contesti molto sociali, di ridare uno spazio che era un pochino diciamo degradato. Al termine del lavoro strutturale è stato realizzato un intervento di street art dell'associazione Start Open Your Eyes che ha invitato Moneyless a dipingere questa nuova opera. Il progetto Start Open Your Eyes è stato curato da Gian Guido Grassi. Quello che cerchiamo di fare è apportare anche nelle periferie una forma di arte. In questo luogo è particolarmente bello il fatto che uno la possa utilizzare. L'arte spesso è vista qualcosa che sta nei musei, che sta un po' lontano. Invece l'arte urbana è qui grazie a un artista lucchese. All'inaugurazione del campino di San Filippo, stamani, anche Massimo Cosmelli, ex cestista italiano di Serie A e responsabile federale del 3x3. Luca da sempre è stata una città di basket e installazioni come questa sicuramente aiutano i ragazzi a perseguire sempre più questa passione e ritrovarsi poi a metterla in atto e provare a fare a canestro proprio su delle opere, delle opere d'arte come in questo caso. Grazie a tutti.